Vi starete chiedendo E questi chi sono? Di solito ci sta quello bassetto E l'altro ha lampato con la barba e gli occhiali Invece no, ci siamo noi E chi sono questi, scusa? Se siete così boomer da non sapere cosa succede nel mondo Pfff, non sono affari miei Basta accendere la televisione O internet Ad ogni modo Siamo la nuova classe della... OT Pitcharts Academy Siamo strani Siamo belli Siamo giovani Oddio, non tutti giovani Comunque, unici Ma soprattutto vogliamo dire la nostra E credetemi Sentirei presto parlare di noi In che senso, scusa? Nel senso che noi gireremo un film Ah, ecco Ma lo facciamo per voi Basta ragazzi, sono seri Sì, infatti Volevamo solo dirvi Grazie a tutti Io comunque Sono più bello Sì, infatti